Quasi 2000 nuovi casi a fronte di poco più di 10.000 tamponi effettuati, ancora 5 decessi e attualmente positivi che crescono di circa 1000 unità rispetto a ieri e la fotografia del bollettino epidemiologico diramato oggi dalla regione Puglia, 1932 i nuovi contagi che si dividono tra i 629 della provincia di Bari, 392 di quella di Lecce, 343 nel Foggiano, 204 in provincia di Taranto, 192 nella Bat e 142 nel Brindisino. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.155.556. I 5 decessi registrati aggravano ancora il conto dei morti. Dopo aver contratto il virus il totale sale a 8.577. Gli attualmente positivi salgono a 21.023 in rialzo di 1000 unità, poiché in data odierna sono stati registrati circa 1000 guariti, dato inferiore ai nuovi contagi giornalieri. Ancora buone notizie sul fronte ricoveri, 207 i pazienti in aria non critica, 9 in terapia intensiva.